Passiamo a una buona notizia per la sanità regionale. L'ASREM ha acquistato un nuovo sistema tecnologico di telemedicina che consente di collegare gli ospedali di Campobasso, Agnone, Isernia e Termoli e di salvare vite umane. Ci dice in che modo Maria Grazia Fascitelli. Uno strumento tecnologico che punta all'innovazione, alla qualità delle cure, all'efficacia e alla sicurezza del paziente. Il nuovo sistema tecnologico di telemedicina, acquistato di recente dall'ASREM, è presentato nella sala del parlamentino di Palazzo Vitale a Campobasso. L'utilizzo di questa tecnologia è fondamentale per ridurre la mortalità del paziente, in particolare in caso di ictus ischemico, ottimizzando i collegamenti tra presidi ospedalieri, ha detto il presidente della regione Donato Toma, che ha spiegato che il cardarele di Campobasso funzionerà da ospedale hub con la stroke unit, l'ospedale centrale, di secondo livello da completare. E l'ospedale di Isernia, Termoli e Dagnone, che faranno da Spoc, ossia ospedali periferici. Il sistema tecnologico è stato finanziato con fondi POR FSR 2014-2020 e rientra in un progetto di agenda digitale gestito dalla Direzione della Salute della Regione Molise. Il direttore generale facente funzioni dell'ASREM, Antonio Lucchetti, ha illustrato nel dettaglio il funzionamento dell'applicazione. Un robot che funge da dispositivo medico a tutti gli effetti, ha detto, posto accanto al letto del paziente, collegato a diversi terminali e apparecchiature, come l'elettroencefalografo, l'ecografo e l'elettrocardiografo, che consentiranno al medico, grazie ad un monitor collegato al robot, di monitorare a distanza la situazione del paziente.